Prima lo scontro e poi le prove di dialogo. La carella sul mercato oggi ha fatto registrare un'altra animata puntata. Poco c'è mancato che sindaco e ambulanti arrivassero allo scontro. Certo non sono mancati momenti di tensione quando a Campo Genova, a festa, gli ambulanti, invitati da vice sindaco e assessore a commercio a Laura Nargi per visionare la nuova area destinata al mercato in prasettimanale, dopo settimane di polemiche e contestazioni, si sono ritrovati e confrontati a musso duro. Un faccia a faccia a tratti vibrante con gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini della Digos che sono dovuti intervenire più volte per calmare gli animi. Vogliamo solo lavorare, hanno gridato a più riprese gli ambulanti, che hanno fatto notare come alla vigilia della giornata di mercato non ci fossero ancora gli stalli. Quando qualcuno di loro ha poi alzato il tono della protesta definendolo pagliaccio, il sindaco ha replicato con fermezza pretendendo rispetto. Dovete pagare le tasse, ha ripetito Festa. Per lo stesso motivo, ha aggiunto, ci sono famiglie che vengono cacciate dalle case popolari. Smorzata la rabbia, il sindaco e gli ambulanti hanno provato a siglare un'intesa. L'impegno sancito da una setta di mano e l'appuntamento a domani preso al comando dei vigili urbani per procedere alla ripartizione con l'ausilio degli stessi ambulanti degli stalli. Chi paga può svolgere il mercato. La risposta di Festa, che ha rivelato come solo in 13, abbiano avviato la sanatoria della posizione ratezzando i tributi dovuti. Intanto, ed è questo l'unico punto certo della carella, il mercato domani salterà ancora.